Ugo! Ciao Raimondo, come stai? Ma che fai da queste parti? E niente, sai, niente, ma stavo appunto da queste parti e ho pensato quasi quasi vado a vedere che combina Raimondo e quindi... E' tantissimo che non c'è niente. Eh beh, quasi due anni, credo. Entra, entra, comodo. Grazie. Vuoi lasciare, toglierti i pantaloni e lasciarli fuori? Come scusa? Dico, vuoi toglierti i pantaloni e lasciarli fuori? I pantaloni? Eh, li tieni indosso? Eh sì. Niente, io il lavoro ho finito, magari passo domani per contare l'antenna. Ah, va bene, grazie. A vederci. Salve. Salve. Ah, comodo, li tieni? Sì. Vieni, vieni. Salve. Scusa, lo dicevo, l'operario, il tecnico lì... Tecnico TV. Eh, stava in mutande. Tecnico TV. Dico, stava in mutande. Ripara il televisore? Sì, ti ha lasciato fuori i pantaloni. Vieni, accomodati. Sì. Anche altri. Ah, anche altri. E insomma. Senti, ma come mai hai piazzata questa sedia qui al centro della stanza? Soprattutto perché è tutto abbassato? Le serrande abbassate? Le serrande abbassate? Vanno fuori giorno. Eh sì, fuori giorno, invece le serrande abbassate. Eh, dico, come mai? Visto che... Invece le serrande sono abbassate. Eh, ma come... Uh! Vuoi qualcosa da bere? Non ti ho offerto ancora nulla. Ah, grazie, grazie. Sì. Tieni. Bevo... Sì. Bevo... Che c'è dentro? Acqua. L'acqua dei fiori? Sì. La bevo questa? Sì. No, 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 ma io non intendevo acqua, non ho sete. Quando ho detto di sì, quando mi hai chiesto se volevo qualcosa da bere, ho detto sì perché mi immaginavo che mi offrissi qualcosa tipo alcol. Ah, alcol! Eccolo. Non fa niente, non fa niente, è bene così. Bene così, sicuro? Sì, sì. E insomma, due anni. Due anni che non ci si vede. Due anni. Che non ci vediamo, incredibile. Io qui ho cambiato tutto. Eh, bello. Ti piace? Bello, mi piace molto. Davvero? Sì, sì, bello. Ah, sono contento. La redata con gusto. Sì, ha messo un po' forse troppi oggetti, così. No, no, però sono belli. Sì. Molto bella quella cornice. La trovi è bella? Eh sì, d'argento, no? Sì, tieni, è tua. Tieni. Va bene, non fa niente. Tieni, regalo, no, no, ci tengo. No, ma non serve. La trovi è bella? È tua. Sì. Dai, è tua, tua. Va bene, grazie allora. Grazie. Vabbè, allora la poggio lì così... No, 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 è tua, è proprio tua, tua. Sì, dico, la prendo dopo, la poggio lì. No, 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 è proprio tua, tua, tieni. Mia. D'altra parte poi è l'unica cosa che ti piace qui dentro. Allora è vero che l'unica cosa che mi piace qui dentro? Tante cose che mi piacciono. No, no. Ma sì. Davvero? Sì, certo. E che altro ti piace? Che no, tante cose, no, il candelabbro. Il candelabbro? Ti piace? Tieni, è tuo. No, non fa niente. No, ma ci tengo, ci tengo. No, veramente, credi che c'è? È molto bello. È tuo. Ma posso poggiarlo lì e magari lo prendo dopo? No, 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 tieni, è tuo. È proprio tuo, tuo, tuo. È mio proprio. D'altra parte sono le uniche cose che ti piacciono qui dentro? Eh sì, proprio le uniche. Purtroppo il resto mi fa schifo, proprio butto brutto. Davvero? Eh, lo so. Dici sul segno? Eh sì, è brutto proprio tutto, non mi piace niente. Non ti piace null'altro? No, no, mi spiace. Niente di... neanche quella pianta. No, ma poi quella è orribile, quella è proprio orribile. Non la mettere mai a casa mia una pianta così, oh. La trovi brutta? È bruttissima, mi spiace, ma quella proprio... La trovi brutta? La trovi brutta? No. La trovi brutta? No. Oh. La trovi brutta? Oh. Ma che ci fai con questa roba in mano? Con questa? Me l'hai regalata tu? Eh, te l'ho regalata. Che vuole che me la riprenda? No, vabbè, che... Te l'ho regalata ormai è tua, scusa un po'. Non stai scomodo. Quello che dicevo pure prima, insomma. Era che sei strano. Allora, sei sempre stato un po' bislacco tu? Infatti. Sei sempre stato un po' così, mi ricordo anche... Che? Che cos'è quell'espressione? Che espressione è? Eh? Non mi inganni. Che c'è? Non mi nascondi nulla. Cosa ti ho? Eh? Perché che c'ho? Eh, sì, 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 tu vorresti nascondere il mio segreto. Tu mi nascondi un segreto. Ma che ti nascondono? Tu mi nascondi un segreto, ma io ti ho capito. Ti leggo attraverso. Tu fai l'amore con le pecore, eh? Ma che dici? Dovinato? Ma che indovinato? Ma che stai dicendo? Eh, a me non la fai. Io ti leggo dentro. Pecore o capre? Ma nessuna delle due. Ma che cosa dici? Ma che cosa? Mi sono... Mi stavo dimenticando. Scusa. Scusa, mi prendi. Prendi. Prendine una. Sono buone. Sono carte? Sì. Prendine una. Prendi una carta. Prendi. Prendi. Tu qua tienila. La devo guardare? Sì. E che faccio? Tua, tua. Ah, è mia? Sì. Ah, me l'ha regalata pure questa. Non si rivedrà più. Quant'è che non ci vediamo? Dico due anni, sì, due anni che non ci vediamo. Due anni? Dal giorno del mio compleanno. Dal giorno del mio compleanno? 27 agosto, sì. Mi ricordo che ho finito. Ti ricordo delle mele, sì, sì. No, ma... Eh, sì, sì. Che cosa hai fatto in questi due anni? Racconta. Tante cose, che ne so. Racconta, racconta. Vabbè, mi sono fidanzato. Poi ho cambiato lavoro, ho cambiato lavoro. 28 agosto, sei fidanzato e hai cambiato lavoro. Ma che 28 agosto? Dico, in questi due anni mi sono fidanzato. Sì, ma ci andiamo con ordine. 27 agosto, ci siamo visti. 28 agosto, cosa hai fatto? Eh, non me lo ricordo. 29? Nemmeno. 30 agosto? Non so. 31? 2 settembre? Nemmeno. 3 settembre? Non mi ricordo. 4 settembre? 5 settembre? 6 settembre? 7 settembre? 8 settembre? 8 settembre? 8 settembre? Che? Ma che cos'hai lì? Dove? Qui. Che cos'hai? Eh, è una carta... Ma cosa ci fai? Lotto di fiori. Eh, lotto di fiori, ma... È la carta che ho preso prima. Ma che cosa? Riponila, presto. Riponila qui. Ma me l'hai data tu, me l'hai data... Riponila. No. No. Come ho fatto a non pensarci prima? Tu sei l'eletto. Che so io? L'eletto. Presto, presto, inginocchiati. Inginocchiati. Che... L'iniziazione. Che? Alza, alzala. Alza l'otto di fiori. Ecco, tenelo con i pollici, alzalo. Ecco, così. Ripeti con me. Ora sei l'eletto. Lotto di fiori. Custodiscilo Ripollo Lo ripollo Adesso Procediamo con le virazioni Ma che virazione che è? Devi essere purificato completamente Eh ma chi mi fa le virazioni? Sì, perché così sarai fedele all'otto di fiori No, 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 sto bene così io Non lascia stare Devi essere fedele all'otto di fiori Ma io sono fedele uguale Purificato Ti dico che sono Hai ragione Guarda Le manizzozze C'ho le manizzozze luride Guarda Le devo lavare Sennò come faccio a purificarmi Sennò quelle manizzozze Lavale Vado a lavare al bagno E poi dopo ti eviro Poi mi eviri Lava dal bagno Sì Lavole mai torno e mi eviri E ti eviro Va bene, vado Vai al bagno o eletto Lotto di fiori La vaffanculo Ma è l'eletto È l'eletto È l'eletto È l'eletto È l'eletto È l'eletto